Presidente, è stata consegnata la struttura di San Domenico, il centro interculturale, naturalmente adesso necessita un regolamento per la fruizione. Ci sono stati alcuni eventi così sporadici, ma è giusto comunque coinvolgere anche le associazioni. Chi naturalmente potrà usufruire di questa struttura? Intanto infatti esprimo quello che comunque è un sentimento collettivo, come ho scritto dalla nota che vi ho inviato, che è quello di grande gioia per questa consegna. Consegna di un'opera eccezionale che è nata durante l'amministrazione Scrimali, questo dobbiamo ricordarlo, di cui io facevo parte perché c'è anche un legame sentimentale rispetto a questa, se si può avere un legame sentimentale per una procedura amministrativa perché ero consigliere comunale proprio in quell'epoca, poi i lavori sono succeduti, c'è stato il sindaco Corbo che l'ha seguito durante la sorgistratura ed oggi con l'attuale amministrazione il sindaco di Ventura. È un'opera, ripeto, bellissima, che si presterà a diversi utilizzi, ma è chiaro che proprio perché assume un'importanza fondamentale, non solo sotto il profilo architettonico e urbanistico, perché chiaramente ha risanato un intero quartiere, che sia proprio un punto di riferimento che potrebbe anche generare nuove opere attorno a sé, e anche il recupero di altre zone attorno a questa struttura, ma anche e soprattutto di natura culturale ed economica, perché attraverso questa struttura noi potremmo attrarre turismo, potremmo attrarre eventi culturali e no gastronomici e di tanto altro tipo che possono farlo diventare un volano proprio per lo sviluppo economico del nostro tessuto sociale e che chiaramente necessita, per una visione, per una configurazione anche nel futuro dell'utilizzo di questa struttura, di coinvolgere le tante forze, perché ce ne sono tante, sia culturali che sociali che meditatoriali, affinché tutti insieme poi si possa, attraverso gli strumenti che lo Stato Comunale offre, che ha la presidenza del Consiglio Comunale e Consiglio Comunale intero, possa confluire questo contributo di idee nella predisposizione di un regolamento che poi è competenza del Consiglio Comunale, che lo esiterà appena sarà pronto, sarà pronto anche in bozza, affinché poi possa essere questo contributo di idee ma proprio un elemento, la malta di unione di tutti quei contributi che potranno essere utili proprio per l'utilizzo di questa struttura che non può certamente restare inutilizzata, che ripeto, proprio in questo momento di crisi economica, anche di una crisi collettiva, di natura, sotto certi aspetti anche culturale, e uno strumento deve essere utilizzato assolutamente nel migliore dei modi, affinché possa proprio costituire e possa arricchire il nostro tessuto sociale. Lo farete di iniziativa quindi della presenza del Consiglio o è necessario che lo faccia l'amministrazione comunale? No, un regolamento noi faremo di coinvolgere, questa è la nostra competenza e certamente lo faremo di coinvolgere e di interloquire con le forze sociali nel nostro Paese. Chiaramente il regolamento può essere predisposto dall'amministrazione comunale, può essere predisposto anche da un singolo consigliere che lo faccia col diritto iniziativa, può essere predisposto dalla Commissione Consigliare, comunque vada redatto, comunque vada formalizzato, in ogni caso io credo debba essere arricchito, lo contributo di tutti i cittadini canecatinesi. Presidente, parlando poi del Consiglio Comunale, l'ultimo che si è svolto, c'è stata una discussione su debiti fuori bilancio, poi si proseguirà la prossima settimana con una nuova seduta, ma il nocciolo della questione finanziaria del Comune legata a questi debiti fuori bilancio preoccupa anche la Presidenza e l'intero Consiglio Comunale? Certamente preoccupa tutti perché la situazione economica non è delle più rose e poi noi vediamo questo fiorire continuo nel debito fuori bilancio che certamente non è particolarmente bello da esitare, tuttavia si tratta spesso e volentieri di sentenze passate a giudicato che devono essere necessariamente pagate altrimenti si produrrebbe un danno al Comune. C'è un nuovo orientamento su questo, visto che sono sentenze potrebbe pagarle direttamente il funzionario, quindi gli uffici, perché devono passare al Consiglio Comunale? Esattamente, questo punto che è stato sollevato dal Vice Presidente Vicario Fabio Di Benedetto è un punto che ha trovato anche l'accoglimento del Secretario Generale, chiaramente convocheremo una conferenza del Capigruppo in cui discuteremo di questo punto per formalizzare eventualmente anche uno stimolo nei confronti dell'amministrazione attiva e del Sindaco che poi è competente per chiedere eventualmente anche un parere in questi termini alla Corte dei Conti.